Allora siamo a Mestre, al centro commerciale Le Porte di Mestre, qui abbiamo il signor Paolo Gagliardini, imprenditore, che deve essere anche un po' matto, ci permettiamo di dire così, perché un investimento così importante in questo periodo storico vuol dire proprio essere o matti, oppure avere una grande capacità e esperienza, perché sappiamo che questa non è la prima pista che fate, giusto? Sì, assolutamente, questa è la 74esima pista di go-kart che abbiamo realizzato in tutto il mondo e a differenza delle altre è una pista che andremo a gestire direttamente, che sarà proprio un nostro showroom, chiaramente dove c'è l'espressione di tutti i nostri prodotti e la tecnologia che proponiamo ai nostri clienti. Senti, una domanda che facciamo di default, quando c'è quello, sia che apra il negozietto, che l'azienda più importante, una cosa che interessa molto la gente è quanta gente verrà a lavorare qui, con questo impianto così, quante sono le persone? Qui sono previste praticamente 10 persone ad inserire praticamente in questa attività, come partenza, poi speriamo di crescere, speriamo che il territorio condivida con noi questo nostro investimento e questa nostra struttura innovativa. Ma una pista così, se non sbaglio, non c'è, non so, in Alta Italia non c'è o sbaglio? Ci sono altri circuiti che noi abbiamo realizzato, ma qui c'è un concentrato di tecnologia, poi la pista si integra anche con altre attività del mondo ludico e ricreativo e poi quando faremo l'inaugurazione ufficiale andremo a presentare un prodotto unico a livello nazionale, è veramente una chicca che darà veramente un lustro aggiuntivo a questo impianto. Che ci sveglierete all'inaugurazione perché adesso siamo in una fase di pre-test, giusto? Sì, assolutamente, inizieremo da domani ad aprire questo impianto ai nostri clienti, farlo provare con date ancora da definire con un programma che sarà poi programmato proprio per l'evento inaugurazione che sarà previsto a febbraio. Allora, si parla sempre di auto elettriche, sappiamo invece che questi qua, questi go-kart sono elettrici, parlaci un po' di questi nuovi bolidi. Sì, questi sono appunto go-kart elettrici, abbiamo un'offerta per tutte le età in quanto abbiamo go-kart dedicate ai bambini, quindi da 7-14 anni hanno il loro go-kart, poi per gli adulti abbiamo praticamente un kart che ha anche la possibilità di avere un booster, quindi una sola potenza per alcune parti della pista, quindi qualcosa di veramente unico. Abbiamo poi un kart bi-posto per permettere ai genitori di girare con i bambini più piccoli o magari anche ai disabili di poter comunque assecorare la nostra pista. Anche i disabili quindi? Assolutamente sì, chiaramente accompagnati in bi-posto, quindi è veramente un'offerta per tutti. Ti ringraziamo e non vediamo nulla che sia operativo per venirlo a provare, perché insomma abbiamo anche un po' di figli e ci piacerebbe fargli provare e testare questa bellissima novità qui in Mestri. Profumi per lei, per lui, per il corpo, per l'ambiente alla Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, fragranze accese, delicate per il tuo relax, per richiamare il sonno, per darti vigore, energia e carica. Profumi ed essenze per gli ambienti in cui vivi con il pratico diffusore alla Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni in Chioggia, aperto le domeniche mattina.